Allora, prima di tutto, prima di passare alla presentazione degli atleti, lascio la parola al nostro caro Amelico, direttore della box club di Locarno, per i saluti. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto voglio ringraziare a tutti i partecipanti che sono qua, arrivando da lontano per rispettare questo torneo di guanto d'oro. Sono contenti per la loro partecipazione, anche per quelli che non hanno potuto venire per diversi motivi checchi e infortuni, allora ringrazio lo stesso. Io direi a tutti i pubblici che sono qua per alla finale, in bocca al lupo, chi vinca i migliori vuole lo spettacolo ragazzi, ok? Cerchate di fare il vostro meglio. Buongiorno a tutti, io vorrei ringraziare anche tutta l'equipe che sono venute da Sussu Romano, da Sussu Almanichi, un ringraziare per partecipare a questa torna, e io sono contento che voi siete qui. Abbiamo spero che la prossima qu'il abbia ancora di molti squadri, perché io sono con la regione, sono tutti i futuri championni dell'elite, ma per cominciare devo fare dei piccoli passi. Ora cominciamo, è per questo che ho da questo torno all'elite a tutti, perché tutti hanno la possibilità di far vedere che la boxe non è solo all'elite, perché iniziamo con i codici, i cadetti, i juniori, i juniori, per arrivare all'elite. Allora, non bisogna essere pressi per arrivare dove arrivare, ma bisogna dare il tempo. E io ringraziare anche tutta l'equipe, ringraziare anche la Svizz Boxing, ringraziare i nostri giocatori, ringraziare i nostri medici, ringraziare a tutti.